Il 27 giugno di 40 anni fa, il 19 Italia, partito da Bologna a Sina, bisò nel Tirreno. Per raccontarvi una delle pagine più buie della storia della Repubblica, siamo tornati ad Ustica, l'isola che diede il nome a quella strage. In diretta c'è il nostro inviato Leonardo Zellino. Ciao Leonardo, buonasera. Buonasera a voi da Piazza Umberto, cuore di quest'isola di 1300 abitanti, il cui nome evoca uno dei grandi misteri d'Italia. Subito con Walter Vecelio, la ricostruzione del disastro aereo, 40 anni di dubbi, depistaggi e poche verità. Poi la testimonianza di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime, ancora in attesa di giustizia. Vediamo. Sappiamo che un aereo con 81 persone a bordo decolla da Bologna. Sappiamo che esplode all'altezza del cielo di Ustica. Muoiono tutti. Questo bambolotto, forse un regalo. A bordo, tanti bambini, 14. Giuseppe, un anno appena. Francesco, due. Sappiamo che quella sera in volo ci sono altri 18 aerei. Lo dicono i tracciati che la Nato, dopo tante insistenze e resistenze, fornisce al giudice Rosario Priore. Sappiamo che Francia e Stati Uniti rispondono in minima parte alle rogatorie dei magistrati. Sappiamo che mani ignote manomettono i tracciati e i registri dei radar fanno sparire prove documentali. Quattro anni fa il presidente della Repubblica, Mattarella, in un messaggio ai parenti delle vittime, scolpisce parole su cui ancora oggi si ha il dovere di riflettere. Chiede che siano rimosse le opacità purtroppo persistenti. Perché qualcosa di oscuro, di limaccioso permane, incombe. Nei diari del capo ufficio stampa di Cossiga, il 30 settembre 1989, si legge Il presidente ci dice che ormai, se come sembra, si riduce il campo delle responsabilità a tre paesi che avrebbero lanciato il missile, Stati Uniti, Francia o Libia, a suo avviso non si può che nutrire sospetti sui francesi. E sempre Cossiga, i francesi non lo diranno mai e se qualche giornalista insiste, chissà che non abbia un incidente d'auto. Buttad, attorno a questa vicenda ci sono strane morti, esperti piloti che muoiono in incidenti, addetti dei centri radar che si impiccano, tanti infarti e anche incidenti d'auto, sempre qualche giorno prima di essere interrogati. Coincidenze, ma sono tante, troppe. Quando sono riuscita a realizzare